Sì, questa foto l'hai già vista, è vero, è la seconda applicazione della Color Story di Lauretta, uno degli esempi che sto riportando sempre di più sul mio canale. Ora ti mostro l'ultimo lavoro fatto, cioè la terza applicazione. Come puoi notare il colore si sta trasformando sempre di più, sta arrivando ad essere molto carico di rosso a un colore Morgano come lei desiderava. Ovviamente il sole è riflesso un pochino più aranciato, questo è normale, ma ti invito a osservare anche quanto è molto più lucido. Se ti ricordi le vecchie foto di com'era il capello, sembra addirittura un'altra persona, ma ti garantisco che è la nostra cara amica Lauretta. Qui appunto al sole puoi notare come sta riflettendo bene il colore. Ed ora ti lascio a una slide. E se ti è piaciuto questa storia, continua a rimanere collegato su questo video e vedrai le vecchie applicazioni e le vecchie color story di Lauretta. Seconda seduta a colore per la nostra Lauretta ti ripropongo il suo video originale, lo puoi cercare nella mia galleria. E vedere che cos'era successo e che cosa avevamo fatto. Ora ti mostro a distanza di 30 giorni questo bellissimo colore che stai vedendo adesso nella slide e come si era trasformato. Eccolo qui. Aveva la sua ricrescita naturale, ma si era compattato. Quella brutta schiaritura dovuta alle ossidazioni sbagliate di una colorazione applicata nel fai da te durante il periodo del lockdown. E' stata davvero ben tamponata, per cui il fondo colore c'è. Cominciamo lo step verso il nostro rosso modano. Come puoi vedere già il risultato è buono. Al prossimo mese, continua a seguirmi e grazie per il like.